Buongiorno, siamo qui oggi in questa importante occasione delle smart communities per presentare il nostro ruolo all'interno di questo progetto, ma soprattutto per dare una testimonianza di quello che Telecom in questo momento sta facendo in termini di investimenti in innovazione nel piano industriale e soprattutto a livello locale i progetti come si declinano. Oggi sul Piemonte stiamo realizzando delle iniziative molto interessanti che hanno come parola d'ordine l'innovazione, il contributo del Comitato Tecnico Innovativo insieme a Torino Wireless e con il contributo anche di giovani, di piccole imprese abbiamo lanciato un numero veramente interessante di progetti, sia all'interno dell'iniziativa di collaborazione con gli Atenei e nello specifico gli Atenei Torinesi, Joint Lab, che vede anche altre iniziative con altri Atenei a livello italiano dove sono partiti progetti innovativi bellissimi e oggi qui ne vedrete una testimonianza.